In un articolo di giornale l'assessore al welfare della regione Lombardia sostanzialmente si augura che il prossimo Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano non sia io o comunque sia una persona più condiscendente e con la quale non si abbiano contrasti. Io ho sempre avuto grande rispetto delle istituzioni, sono Presidente di un ente pubblico e ho sempre collaborato con tutti, ma certamente se c'è una cosa che posso dire e di cui vado orgoglioso negli anni che ho guidato l'Ordine dei Medici di Milano e anche prima quando ero Vice Presidente è avere sempre impostato la mia azione sul dire, certo da un punto di vista etico e ontologico, perché questo è il nostro compito, ai poteri forti, dicevo dire ai poteri forti ciò che un ordine, che è un organismo tecnico, ancorché è un potere dello Stato, deve dire. Noi in questi anni abbiamo portato al TAR il Ministro della Salute sul decreto della proprietà perché pensiamo che non c'entri nulla con la proprietà, così come abbiamo avanzato le nostre critiche all'Empam perché pensiamo che il patrimonio dei Medici non sia gestito in maniera consona a quello che è l'aspettativa di questi professionisti e abbiamo detto ciò che pensiamo sulle due libere di cosiddetta presa in carico della cronicità in merito ovviamente a problemi che si potranno creare con i cittadini cronici e coloro che hanno bisogno di cure. Per il futuro vorrei impostare, se ci sarò io naturalmente, l'azione dell'Ordine su due direttrici principali, ovviamente dopo scontato la conferma della totale indipendenza e rigore rispetto ai poteri forti di cui parlavo poc'anzi, ma vorrei che l'Ordine entrasse in maniera più precisa nella tutela dei precari e delle colleghe che hanno contratti di lavoro temporaneo, naturalmente colleghe e colleghi, ma le colleghe sono spesso in condizioni di maggior fragilità e l'altra cosa che vorrei assolutamente fare è continuare quell'opera che è stata fatta dall'Ordine dei Medici di Milano nel campo della responsabilità civile dei medici. Adesso ci manca di entrare nel mercato assicurativo e dettare noi delle regole alle compagnie perché le polizze che vengono stipulate dai medici siano il più possibile corrette e rispettose della professionalità dei medici stessi. Grazie.